Ciao, sono Marika e mi sono da poco laureata nella facoltà di Biomedical Science all'Università degli Studi dell'Insuria. Per la mia specialistica ho scelto l'indirizzo oncologico e ho svolto il mio tirocinio presso l'Istituto Mario Negri di Milano, in particolare nel laboratorio di farmacologia molecolare dove sono andata a testare diversi farmaci e solini cellulari di tumore al polmone. Ad oggi sto continuando a frequentare l'Istituto per seguire lo sviluppo del mio progetto di tesi e sono molto contenta della facoltà di Biomedical Science in quanto ti prepara al mondo della ricerca molto bene dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista pratico. Mi chiamo Elena e sono stata studentessa di Biomedical Science fino ad ottobre 2017 quando mi sono laureata. Dopo la laurea ho deciso di lasciare la ricerca per approcciarmi ai nuovi ambiti perciò ho iniziato a cercare lavoro nel settore farmaceutico. Infatti a febbraio 2018 ho cominciato uno stage nel marketing in Sandots che è una multinazionale farmaceutica divisione del gruppo Novartis. Dopo sei mesi mi è stato offerto un posto nella direzione medica della stessa azienda come medical advisor perciò eccomi qui. Il mio lavoro consiste soprattutto nell'occuparmi degli studi clinici che l'azienda decide di attuare in collaborazione con medici o centri di ricerca, però non faccio solo questo. Infatti mi occupo anche di formazione, di revisione di materiali promozionali e ho la possibilità di viaggiare molto sia in Italia che all'estero per assistere a congressi nazionali e internazionali. Il mio lavoro quindi è molto vario, dinamico e mi piace molto. Perciò ringrazio Biomedical Sciences di avermi dato l'opportunità di accedere a questo mondo. Ho fatto il corso qua a Varese della triennale scienze tecnologie biologiche, mi sono laureata nel 2015 e poi mi sono subito iscritta, anzi mi sono iscritta prima di laurearmi al corso di Biomedical Sciences. La mia grande domanda all'inizio era appunto la lingua inglese. Seguire i corsi in inglese inizialmente non è semplice, cosa che si risolve nel giro del primo semestre massimo perché poi comunque la lingua diventa naturale, cioè vi diventerà più semplice seguire in inglese che in italiano, quindi non siete spaventati dall'inglese perché non è assolutamente un problema. Io ho fatto il tirocino, ho scelto di fare il tirocino esterno presso l'Istituto Mario Negri. Questo laboratorio mi sono trovata benissimo, le conoscenze che mi sono state fornite durante il corso erano sufficienti per iniziare in quel laboratorio, non ho avuto nessuna difficoltà. Dopo la laurea io ho avuto due offerte di lavoro, una in ambito scientifico da ricerca, una in ambito non scientifico, quindi ho avuto un'offerta di lavoro dall'IFOM. Le offerte dopo non mancano, diciamo. Certo bisogna anche essere un attimo abili a muoversi, bisogna essere abili nel fare le proprie scelte. Io, nel mio caso parlo per me, non ho scelto di rimanere in ambito di ricerca, ma è stata una mia scelta personale, quindi per chiunque voglia continuare sia ricerca che non ricerca, qualsiasi cosa, comunque questo percorso offre un'ottima preparazione di base per tutto, quindi potete stare tranquilli. Comunque, grazie. Ciao a tutti, io sono Chiara, mi sono laureata nel 2014. Dopo aver fatto il tirocinio, ovviamente in un laboratorio di farmacologia in cui si studiava la ricerca preclinica, ho deciso di passare alla ricerca clinica. Quindi sono uscita completamente e sono stata assunta da un'azienda che si chiama Quintiles, è una CRO che appunto offre un servizio alle aziende farmaceutiche nella gestione degli studi clinici, le sperimentazioni cliniche. È un lavoro molto dinamico, nel senso che le problematiche che ci si trova ad affrontare sono ogni giorno diverse e il fine è quello di arrivare ad ottenere dei dati da uno studio clinico che siano il più possibile puliti e veritieri in modo che possa esserci poi un'analisi biostatistica di questi dati affinché i farmaci possano poi entrare in commercio. Ciao a tutti, io sono Michele, mi sono laureato un anno fa a marzo del 2018, ho frequentato la triennale a Milano in un'altra università e poi ho deciso di iscrivermi al corso di Biomedical Sciences all'Insubria proprio perché sapevo che era un corso ottenuto interamente in inglese. Vi dirò la verità, il primo approccio è stato un attimo complicato diciamo perché vi trovate a seguire delle lezioni in una lingua che non è la vostra e soprattutto a prendere appunti in una lingua inglese che non è la vostra che è un po' complicato. Tutto questo in realtà come è stato detto anche nei video che abbiamo visto si risolve nel giro dei primi mesi nel senso che il punto di forza del corso secondo me è che in senso buono vi costringe a esercitarvi con l'inglese quindi voi quotidianamente dovrete seguire delle lezioni in lingua inglese, prendere appunti in lingua inglese e dovrete poi studiare anche in inglese quindi vi costringe a esercitarvi giorno dopo giorno. In ogni caso i professori saranno sempre disponibili a darvi una mano. A noi è capitato spesso di chiedere magari di rispiegare qualche concetto in italiano e siamo stati accontentati chiaramente non sempre magari dopo tipo al secondo anno magari no però durante il primo anno sicuramente sì. In ogni caso come detto sono comunque disponibili quindi non guardate la lingua come una difficoltà, un ostacolo ma come un'opportunità per voi per migliorarvi perché come abbiamo visto comunque poi vi servirà soprattutto perché molti degli esami che dovrete effettuare saranno basati su presentazioni ad esempio di un vostro personale lavoro di lettura analisi di articoli scientifici che sono nel 99,9 per cento dei casi in lingua inglese non troverete niente in italiano quindi dovete essere in grado di leggere capire cosa c'è scritto rielaborare i concetti e poi presentarli davanti ai professori quindi per fare una bella figura dovete essere preparati cos'altro dire. Per quanto riguarda il tirocinio io ho effettuato il tirocinio interno in ogni caso c'è una giornata in cui durante il secondo anno in cui i professori vi presentano i progetti a cui stanno lavorando in laboratorio quindi voi potete vedere a cosa siete più interessati, vi presenteranno anche i contatti esterni quindi potete valutare tutte le opportunità diciamo. Io l'ho effettuato nel laboratorio di patologia epigenetica del professor Bonapace qualcuno lo conosce forse, non lo so. Mi sono occupato nello specifico della relazione tra microambiente tumorale e tumore della prostata in collaborazione con un ospedale di Torino abbiamo ottenuto dei frammenti di tumore spiantati da pazienti da cui ho estratto cellule del microambiente nello specifico fibroblasti abbiamo prodotto dei terreni condizionati che sono terreni di coltura in cui i fibroblasti rilasciano una serie di fattori e abbiamo esposto delle cellule di prostata, una linea commerciale diciamo a questi terreni condizionati per valutare poi gli effetti fenotipici causati da questa esposizione sia a livello morfologico che molecolare nello specifico dato che ci occupiamo di epigenetica metti l'azione del DNA, modificazioni stoniche e tutto ciò che potesse essere correlato a una progressione tumorale diciamo. Durante tutto il periodo sono stato sempre seguito dal professore e dal personale di laboratorio che erano i dottorandi che c'erano al tempo, la postdoc che gestisce il laboratorio sia nella parte sperimentale che di realizzazione di esperimenti che nell'ideazione di degli esperimenti futuri diciamo e poi ovviamente nella stesura della tesi. Durante questo periodo mi sono appassionato alla ricerca e su proposta del professore io poi ho puntato diciamo essendomi laureato a marzo al dottorato di ricerca, in due parole non so se sapete cos'è, è un percorso di studi sostanzialmente in cui siete retribuiti per portare avanti un progetto di ricerca della durata di tre anni. Alla fine dei tre anni preparate sempre una tesi come per la laurea magistrale ovviamente molto più dettagliata, più scientifica e la esponete e poi lì non ci sarà il voto, sarà approvato o no, comunque sostanzialmente è questo. Quindi dato che il concorso è un concorso pubblico per accedere al dottorato e si tiene a settembre, tra marzo e settembre io sono rimasto in laboratorio a portare avanti un progetto che iniziava in quel periodo che poi fortunatamente sono entrato nel dottorato di ricerca, adesso è diventato il mio progetto personale. Quindi non vi posso dire molto sulla questione offerte di lavoro, nel senso che io personalmente ho deciso di puntare a quello e non ho cercato niente. Sentiremo una testimonianza di una mia compagna, ex collega, che lavora in un'azienda, altri miei compagni con cui sono in contatto hanno trovato lavoro, come abbiamo anche sentito, entro pochi mesi. Quindi comunque è un curriculum che è molto formativo sia per la parte di ricerca che per la parte aziendale. Sicuramente il fatto che è fatto in inglese è un di più rispetto ad altri curriculum di equivalenti, diciamo. Quindi secondo me è molto professionalizzante e molto spendibile nel mondo del lavoro. Dato che dopo ci rivedremo, sono disponibile per qualunque domanda, anche sul dottorato se qualcuno fosse già interessato nel caso. Grazie. Ciao a tutti, io sono Elena. Avete già visto il mio video, quindi sentirete la mia storia di nuovo. Io ho studiato Biomedical Sciences, mi sono laureata nell'ottobre 2017, quindi già un anno e mezzo fa, è passato un bel po' di tempo. Diciamo che l'ambito che avevo conosciuto fino a quel momento è stata la ricerca universitaria, perché ho svolto il mio tirocinio di magistrale qui a Varese, dalla professoressa Campomenosi, ci occupavamo di genetica molecolare. Però diciamo che finita la magistrale mi è venuta un po' la curiosità di vedere che cos'altro il mondo del lavoro potesse offrire a una biologa come me. Quindi ho iniziato a cercare, ho iniziato a mandare candidature in aziende di diverso tipo, soprattutto farmaceutiche. Dopo circa due mesi ho iniziato a fare i primi colloqui. In particolare ho ricevuto un'offerta da Sandoz, che è una multinazionale farmaceutica, parte del gruppo Novartis, che si occupa di farmaci generici e biosimilari. Per chi non lo sapesse, i biosimilari sono farmaci biologici, diciamo una variante di un farmaco biologico che ha perso il proprio brevetto e che quindi può essere ricostruito, rifatto da altre aziende. In Sandoz mi è stato offerto inizialmente uno stage di sei mesi nel marketing, quindi una cosa un po' diversa da quello che avevo studiato, mi sono dovuta un attimo rinventare. In realtà non così tanto, perché il marketing farmaceutico non è come il mass marketing che siamo abituati a vedere in tv con le pubblicità, è a una base molto scientifica e molto solida. Quindi da questo punto di vista è stata una bella esperienza perché mi ha permesso innanzitutto di scoprire che cosa fosse l'ambiente dell'azienda farmaceutica. Dopo questi sei mesi mi è stata offerta la possibilità di entrare nel medical affair. Il medical affair di un'azienda si occupa della direzione scientifica dell'azienda, quindi di dare una strategia scientifica a tutto il costrutto commerciale, possiamo dire così. In particolare io sono medical advisor, una parola molto difficile che in realtà sta ad indicare il fatto che io mi occupo soprattutto degli studi clinici che l'azienda decide di effettuare in collaborazione o con clinici o con istituti di ricerca. Ovviamente non mi occupo di tutti i studi clinici dell'azienda, ma soltanto di una parte che sono quelli relativi ai prodotti di cui mi occupo, in particolare sono alcuni biosimilari. In realtà non mi occupo soltanto di questo, ma anche di formazione. Faccio formazione per la forza vendita e quindi gli informatori scientifici, per essere chiari. Riguardo alcuni prodotti e le patologie e le aree terapeutiche che li riguardano. Parte del mio lavoro consiste anche nel viaggiare molto, soprattutto per congressi nazionali e internazionali, per farvi un esempio. Il mese scorso sono stata a Copenhagen, al congresso europeo di gastroenterologia per le malattie infiammatorie dell'intestino. Quindi è stata una bella esperienza, ma questa esperienza si ripete una volta ogni mese, due mesi, perché ce ne sono molti. Siccome ci occupiamo di formazione dobbiamo a nostra volta farla. Quindi siamo tenuti anche a questo. Che cos'altro vi posso dire? È un lavoro comunque molto vario, molto dinamico, mi piace molto da questo punto di vista. Vorrei lasciarvi con un consiglio, se me lo permettete. Chi mi conosce sa che sono molto schietta, quindi vorrei dirvi fate una scelta consapevole. Adesso state per scegliere che cosa farete durante la magistrale e in parte questo influenzerà anche quello che potrete fare dopo. Quello che vi posso dire è che Biomedical Scientist non soltanto vi permette di diventare degli ottimi ricercatori, ma vi apre anche un sacco di altre opportunità che forse ora non conoscete, ma come diceva Marzia, sono possibili. Soprattutto nell'ambito dell'azienda farmaceutica. Un biologo può fare tantissime cose. Adesso non posso raccontarveli tutte perché ho pochissimo tempo, però dopo sarò a disposizione per le vostre domande e fatemi tutte le domande che volete. Chiedetemi tutto riguardo quello che faccio e anche quello che un biologo può fare in un'azienda. E questo non dovete vederlo come un ripiego alla ricerca, perché queste opportunità sono altrettanto interessanti, varie, gratificanti e a volte anche divertenti. Quindi perché no? Considerateli fin da ora. Un'altra cosa che vorrei ricordarvi è che la mia azienda, per esempio, ha dato disponibilità a collaborare con la magistrale Biomedical Sciences per l'orientamento al lavoro. Quindi ci sarà un incontro molto probabilmente a maggio. E nel frattempo se avete domande appunto chiedetemi, io sono a disposizione. Grazie mille.